GF VIP7, Davide Donadei allude alla relazione una famosa, Chiara Rabbi interviene sui social. Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, ha risposto ad alcuni utenti che chiedevano spiegazioni sulle ultime dichiarazioni del concorrente del grande fratello VIP7. Parlando con Antonella Fiordelisi, originaria di Salerno, l'extronista ha detto, io sono stato con una famosa. Senza però rivelarne l'identità. Stando alle sue parole, la ragazza in questione vivrebbe a Casoria, in provincia di Napoli. Alla luce di queste affermazioni, gli utenti del web hanno ipotizzato che il nome della donna sia Roberta ed hanno chiesto chiarimenti a Chiara, ex corteggiatrice del VIPone durante il dating show Uomini e Donne. L'influencer era prontamente smentito la presunta identità della donna. Così come l'esperta di gossip di Yanira Marzano. In precedenza, Chiara ha espresso più volte il suo giudizio su Davide, intervenendo nella parentesi riguardante il suo tradimento con una ex allieva di amici. Attraverso Instagram Stories, la rabbi ha scritto. Ha quindi spiegato ai suoi followers. Chiara ha quindi lamentato una mancanza di rispetto da parte del suo ex fidanzato. Chi avrebbe rivelato questa frequentazione solo perché è alla ricerca di un clip. Anche non, 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 non mai am nimic di ascunz. Pot să mă duc tot mai sus. Isntrido 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 Grazie a tutti.